ciao ragazzi guardate cosa facciamo oggi andiamo ad aprire questo nuovo gioco che si chiama bubbles in pratica puoi fare delle bolle gigantesche bolle di sapone giganti andiamo ad aprire altre larghe apriamo la sfiderina già fatto vi servirà una bacinella che carino questo sfondo con le bolle questa bacinella si mette qua così poi ci mette al sacco e poi c'è una cordicella e poi ci si scioglie la cordicella io sono perfetta a questo tipo di lavoro attenzione che se si inficcia questo tipo di lavoro diventa un macello ecco qua e poi c'è il sapone che noi dovremmo mettere in questa vaschetta esatto qui ci sono due moschettoni un moschettone si mette da una parte se vuoi danno io le bacchette certo e un altro moschettone si attacca di qua ci siamo fai vedere come viene ok bene come potete vedere i moschettoni si sono attaccati subito facilmente questo è il cordino e qui c'è una perlina che gli data da peso e qui c'è sa che un giorno sa che ci mancavi guarda questa serve per fare il peso e mandarlo nella nella si sa che è nella schiuma ok ecco le nostre bolle non fa cascare quando abbiamo finito lo ripoteremo quello che avanza lo metteremo di vediamo un pochino wow non ho mai visto una bolla così grande direi che funziona che dite funziona alla grande direi wow oh oh questa qui è già scoppiata vediamo proviamo a fare una mega si proviamo a farne una mega che bella questa bolla è gigantesca facciamone una gigantesca wow oh oh wow 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 ah ora posso ma che io posso provare io adesso? certo una gigantesca guardate lo devi immergere fino all'incrocio e basta ok e dopo il mio turno però direi che insomma diciamo che questo video lo possiamo anche concludere qua quindi noi intanto vi salutiamo speriamo che vi sia piaciuto e vi ricordiamo che questo gioco lo trovate su www.babu.it ciao a tutti